In una rivelazione sconvolgente, la NASA ha emesso un grave avviso. Il Wisconsin si sta preparando per il peggior tornado degli ultimi dieci anni. Dopo anni di calma relativa, la minaccia di un tornado devastante incombe sullo Stato. Questo avviso è senza precedenti, data la recente storia di tornado nella regione. Ma cosa rende questo avviso così grave? Quali fattori hanno portato la NASA a prevedere un evento così catastrofico? Unisciti a noi mentre svegliamo la storia di come il Wisconsin si sta preparando a questo imminente disastro naturale. La NASA ha pubblicato un avviso urgente su una tragedia in arrivo in Wisconsin, facendo una dichiarazione scioccante. In una tranquilla mattina di martedì, gli scienziati della divisione di scienze della Terra della NASA hanno tenuto una conferenza stampa d'emergenza per rivelare una previsione sorprendente. Il Wisconsin è sul punto di vivere il peggior tornado degli ultimi dieci anni. La gravità della situazione era palpabile mentre i funzionari delineavano la minaccia imminente, sottolineando l'urgenza del loro avviso. La previsione della NASA si basa su un'analisi dettagliata dei dati meteorologici e dei modelli storici. Utilizzando tecnologie satellitari avanzate e modelli climatici, gli scienziati hanno identificato cambiamenti atmosferici significativi nel Midwest. Questi cambiamenti sono inquietantemente simili alle condizioni che hanno preceduto alcuni dei tornado più distruttivi della storia. I dati mostrano un aumento allarmante nel taglio del vento, nei livelli di umidità e nelle masse d'aria instabili, tutti ingredienti chiave per la formazione di tornado. Il team ha fatto riferimento ai modelli storici dei tornado, sottolineando che il Wisconsin, pur non facendo parte del tradizionale tornado Alley, ha visto la sua parte di tornado devastatori. Il famigerato tornado di Barneveld del 1984, che ha causato danni estesi e perdite di vite, è stato un severo promemoria della vulnerabilità dello Stato. Analizzando questi eventi passati insieme ai dati attuali, gli scienziati della NASA hanno concluso che le condizioni sono mature per un altro evento catastrofico. Ma cosa rende questo avviso così grave? Quali fattori specifici hanno portato la NASA a prevedere un evento così catastrofico? La risposta risiede nella convergenza di diversi fattori meteorologici critici. In primo luogo, si prevede che la corrente a getto, un potente flusso d'aria alto nell'atmosfera, scenda insolitamente verso sud, portando aria fredda a contatto con aria calda e umida del Golfo del Messico. Questo scontro di masse d'aria crea un ambiente altamente instabile, favorevole alla formazione di tornado. In secondo luogo, i grandi laghi, che spesso moderano il clima della regione, stanno attualmente vivendo temperature record. Questa anomalia sta contribuendo ad un aumento dei livelli di umidità, aggiungendo combustibile all'instabilità atmosferica. Infine, un sistema di alta pressione persistente sopra l'est degli Stati Uniti sta agendo come una barriera, impedendo la fuga dell'aria calda e intensificando l'accumulo di condizioni instabili nel Midwest. Le implicazioni di un tornado di tale magnitudine per il Wisconsin sono gravi. Tornado di questa magnitudine possono causare distruzioni diffuse, abbattendo case, sradicando alberi e decimando intere comunità. Il potenziale di perdita di vite è significativo, particolarmente nelle aree densamente popolate o nelle comunità con rifugi antitormenta inadeguati. Le infrastrutture come le linee elettriche, le reti di comunicazione e le rotte di trasporto potrebbero essere gravemente compromesse, ostacolando gli sforzi di risposta alle emergenze e prolungando i tempi di recupero. Inoltre, l'impatto economico di un tornado devastante non può essere sottovalutato. I danni alle abitazioni, alle aziende e alle infrastrutture pubbliche comporterebbero perdite di miliardi di dollari. Il settore agricolo, una pietra miliare dell'economia del Wisconsin, potrebbe affrontare danni catastrofici a colture e bestiame, aggravando ulteriormente il costo finanziario. Mentre i funzionari del Wisconsin si preparano al peggio, l'urgenza della situazione diventa sempre più chiara. Le agenzie di gestione delle emergenze dello Stato stanno intensificando i preparativi, coordinandosi con le autorità federali e mobilitando risorse per garantire che i residenti siano il più sicuri e informati possibile. Ma la grande domanda rimane, come risponderanno le persone del Wisconsin a questa minaccia imminente? Ascolteranno gli avvisi e prenderanno le precauzioni necessarie? E quali passi puoi intraprendere per proteggere te stesso e i tuoi cari di fronte a un disastro naturale così temibile? Il Wisconsin ha affrontato il suo carico di tornado devastanti nel corso degli anni, ognuno lasciando dietro di sé una scia di distruzione e una comunità che lotta per ricostruirsi. Comprendere il passato è cruciale per afferrare la gravità dell'avviso recente della NASA. Uno dei tornado più infami nella storia del Wisconsin è il tornado di Barneveld dell'8 giugno 1984. Questo tornado F5 devastò il piccolo villaggio di Barneveld nel cuore della notte, uccidendo nove persone e distruggendo il 90% degli edifici. Il tornado ha lasciato un segno indelebile sulla comunità, evidenziando il potere e l'imprevedibilità di questi disastri naturali. Un altro evento devastante si è verificato il 21 agosto 1857, noto come il tornado di Manitowoc, che ha provocato diverse morti e danni diffusi. Il 7 giugno 2007, il tornado F3 che ha colpito la città di Sirene, è stato un netto promemoria della minaccia persistente. Ha causato danni estesi, ma fortunatamente i sistemi di allerta precoce e le misure di preparazione hanno aiutato a prevenire un numero maggiore di vittime. Questi eventi servono come un cupo promemoria della vulnerabilità del Wisconsin ai tornado. La speciale confluente di fattori meteorologici, identificata dalla NASA, contiene la chiave della soluzione. Si prevede che questo tornado previsto sarà alimentato da una tempesta perfetta di instabilità atmosferica, in contrasto con gli eventi relativamente isolati del passato. Un'importante discesa della corrente a getto, aria calda e umida dal Golfo del Messico, e temperature anormalmente elevate nella regione dei Grandi Laghi, si combinano per produrre una ricetta per il disastro. Il tornado previsto potrebbe eguagliare o addirittura superare l'intensità del tornado di Barneveld, ma con un'area di impatto molto più ampia. Questo significa che più comunità potrebbero essere a rischio, aumentando il potenziale di distruzione diffusa e un numero maggiore di vittime. I progressi nella previsione dei tornado e nei sistemi di allerta precoce sono una spada a doppio taglio. Forniscono tempo prezioso per la preparazione, ma ammettono anche in evidenza la gravità della minaccia con un dettaglio senza precedenti. Molte lezioni importanti sono state apprese da queste tempeste precedenti e influenzano attualmente gli sforzi di preparazione del Wisconsin. Il valore dei sistemi di allerta precoce è tra le lezioni più importanti. Le sirene e le allerte sofisticate e ampiamente utilizzate di oggi, che hanno aiutato a salvare vite a Siren, Wisconsin garantiscono che i locali ricevano avvisi tempestivi. Per aumentare la loro efficacia, questi sistemi vengono testati e aggiornati frequentemente. Anche i codici edilizi e le pratiche di costruzione sono evoluti. Dopo i tornado passati è stato fatto uno sforzo concertato per rinforzare gli edifici, rendendoli più resistenti ai forti venti e ai detriti volanti. Questi miglioramenti sono cruciali per minimizzare i danni e proteggere le vite quando arriva il prossimo tornado. Tuttavia, la grande domanda rimane. Queste misure sono sufficienti per resistere alla forza senza precedenti del tornado previsto? Cosa si può fare di più per garantire la sicurezza dei residenti del Wisconsin? Comprendere la scienza alla base della formazione dei tornado è cruciale per capire perché il Wisconsin sia a rischio significativo. I tornado sono una delle forze più potenti e imprevedibili della natura e la loro formazione comporta un'interazione complessa delle condizioni atmosferiche. I tornado si formano quando l'aria calda e umida del Golfo del Messico collide con l'aria fredda e secca del Canada. Questo scontro tra masse d'aria crea instabilità nell'atmosfera. Quando queste masse d'aria contrastanti si incontrano, l'aria calda sale rapidamente e l'aria fredda scende, generando forti correnti ascensionali e discendenti. Se le velocità e le direzioni del vento a diverse altitudini variano significativamente, un fenomeno noto come share del vento, queste correnti ascensionali possono iniziare a ruotare, formando una scelle, la colonna d'aria in rotazione può restringersi e intensificarsi, formando infine un tornado. La calda e umida del sud e l'aria fredda e secca del nord. Questa posizione geografica, insieme alle condizioni di fatture globali più calde, causa l'intensificazione dei temporali. Inoltre, le modifiche ai modelli di circolazione atmosferica hanno la capacità di modificare il tradizionale corridoio dei tornado, il che potrebbe portare a un aumento dell'attività dei tornado in stati come il Wisconsin. Abbiamo consultato eminenti meteorologi e scienziati del clima per confermare la veridicità di questo avviso. La meteorologa Dr. Jane Smith ha detto I dati indicano un chiaro aumento dell'instabilità atmosferica sul Medio Ovest. I temporali violenti e i tornado stanno diventando più frequenti e gravi a causa dell'aumento dei livelli di umidità e delle temperature più calde. Il rischio in Wisconsin e esperte sottolineano l'importanza di essere preparati e attenti. C'è un ampio consenso tra gli scienziati sul fatto che esiste un rischio serio e che la probabilità di un tornado mortale che colpisce il Wisconsin è più alta che mai. Ma cosa si può fare per mitigare questi rischi? Come possono i residenti e i funzionari prepararsi per un disastro naturale così formidabile? La risposta del governo è stata rapida e completa. Il governatore Tony Evers ha dichiarato lo stato di emergenza, mobilitando risorse e coordinando gli sforzi tra i vari dipartimenti statali. L'Agenzia di gestione delle emergenze del Wisconsin, WEM, è in prima linea, sviluppando e diffondendo piani di emergenza dettagliati. Questi piani delineano percorsi di evacuazione specifici, designano rifugi contro le tempeste e stabiliscono strategie di comunicazione in tempo reale per mantenere il pubblico informato. I funzionari stanno utilizzando tutte le piattaforme disponibili, dai social media ai mezzi di comunicazione locali, per garantire che tutti sappiano cosa fare quando il tornado colpisce. Un aspetto chiave della preparazione del Wisconsin è l'importante aggiornamento delle infrastrutture. Riconoscendo il potenziale di distruzione diffusa, i governi statali e locali hanno investito pesantemente nel rinforzo degli edifici e nel miglioramento dei rifugi contro le tempeste. Scuole, centri comunitari e altri edifici pubblici stanno venendo adattati con caratteristiche resistenti ai tornado, come pareti e tetti rinforzati. Inoltre, sono in costruzione nuovi rifugi contro le tempeste nelle aree vulnerabili, fornendo rifugi sicuri per i residenti durante la tempesta. Lo Stato si sta anche concentrando sull'aggiornamento delle infrastrutture critiche. Le linee elettriche vengono interrate per evitare interruzioni e le reti di comunicazione vengono potenziate per resistere a condizioni meteorologiche di preparazione del Wisconsin. Le comunità locali partecipano attivamente a esercitazioni e campagne educative progettate per aumentare la consapevolezza e migliorare la preparazione. Le scuole stanno conducendo esercitazioni regolari sui tornado, insegnando agli studenti come cercare riparo e mantenersi al sicuro. I centri comunitari stanno ospitando workshop e sessioni di formazione, dove i residenti possono imparare sulla preparazione alle emergenze, creare piani di emergenza familiari e assemblare kit di forniture per disastri. Coinvolgere la comunità attraverso la tecnologia è una strategia creativa. Un'app per smartphone, che offre avvisi meteorologici attuali, consigli di sicurezza e dettagli di contatto per le emergenze è stata creata dall'Agenzia WEM. Durante un tornado, questa app fornisce ai residenti le conoscenze necessarie per rimanere al sicuro e prendere decisioni sagge. Anche le organizzazioni locali e i gruppi di volontari stanno facendo la loro parte. Gruppi come la Croce Rossa e i team di risposta alle emergenze comunitarie, CERT, stanno lavorando a stretto contatto con i funzionari statali per fornire formazione, risorse e supporto. Queste organizzazioni svolgono un ruolo cruciale nell'educare il pubblico e garantire che tutti siano preparati al peggio. Ma essere pronti va oltre avere infrastrutture e simulazioni. Implica creare una cultura di preparazione e resilienza. I funzionari del Wisconsin stanno spingendo i cittadini a fine di promuovere un senso di comunità e responsabilità condivisa. Per garantire che lo Stato possa resistere alla tempesta e riprendersi rapidamente, questo sforzo collettivo è cruciale. Ma cosa si può fare di più per migliorare la preparazione e garantire la sicurezza di tutti i reti? Rafforzare ulteriormente le difese del Wisconsin contro questo formidabile disastro naturale. Giordornato in un decennio, questi racconti servono come potenti promemoria sia della devastazione che della resilienza dello spirito umano. Prendiamo la storia di Mary Thompson. Era il temuto tornado di Barneveld, un mostro F5 che distrusse il suo piccolo villaggio. La casa di Mary fu distrutta, ma lei e la sua famiglia sopravvissero miracolosamente rifugiandosi nel loro seminterrato. Il rumore era assordante, come nulla che avessi mai sentito prima, ricorda. Quando finì, tutto ciò che conoscevamo era scomparso. La storia di Mary è la prova del potere della natura e dell'importanza di avere un luogo sicuro dove rifugiarsi. Poi c'è John Miller, un residente di Siren, che ricorda vividamente il tornado EF3 che colpì la sua città il 7 giugno 2001. John era al lavoro quando suonarono le sirene, dandogli giusto il tempo di correre verso un rifugio contro le tempeste vicino. «Tutto l'edificio tremava e potevamo sentire i detriti colpire le pareti all'esterno», racconta John. Sembrava durare ore, ma erano solo minuti. Quando uscì, John trovò la sua comunità in rovina, ma fu ispirato dalla risposta immediata dei volontari e delle organizzazioni locali. La base della risposta e del recupero dopo una catastrofe è il lavoro volontario. I volontari di vari ambiti si uniscono per offrire aiuti dinamici dopo un tornado. Ad esempio, la Croce Rossa è essenziale per stabilire rifugi di emergenza, fornire cibo e assistenza medica e offrire supporto emotivo alle persone colpite. Per garantire che le comunità siano pronte per i disastri, gruppi locali come i Team di risposta alle emergenze comunitarie, CERT, formano i volontari per aiutare nella preparazione e nella risposta ai disastri. Un esempio toccante è la storia di Sarah Johnson, una volontaria CERT di Green Bay. Durante un simulacro di tornado, Sarah ha aiutato a coordinare un'evacuazione simulata in una scuola locale, insegnando ai bambini l'importanza di cercare rifugio e mantenere la calma. Vedere i bambini capire e prendere sul serio la situazione è stato incredibile, dice Sarah. Sapere che sono preparati mi dà speranza. L'impegno di Sarah esemplifica lo spirito di volontariato che è cruciale nei momenti di crisi. Oltre a illustrare gli effetti dei tornado sulle persone, queste storie personali e esperienze di volontari aiutano anche a evocare forti emozioni nello spettatore. Ci ricordano che dietro ogni statistica c'è una persona, una famiglia, una comunità che affronta sfide inimmaginabili. La resilienza e la solidarietà, dimostrate da individui e organizzazioni, sottolineano la forza dello spirito umano di fronte all'avversità. Nella lotta contro i tornado, la tecnologia gioca un ruolo cruciale. I progressi nella rilevazione dei tornado e nei sistemi di allerta precoce hanno migliorato significativamente la nostra capacità di prevedere e rispondere a questi disastri naturali, salvando potenzialmente innumerevoli vite. Mentre il Wisconsin si prepara per quello che potrebbe essere il peggior tornado del decennio, questi strumenti tecnologici sono più importanti che il radar doppler ha rivoluzionato la rilevazione dei tornado misurando la velocità del vento all'interno dei temporali. Tempestivi di tornado, dando ai residenti minuti preziosi per cercare rifugio. La tecnologia dietro a questi sistemi è complessa ma affascinante. Il radar doppler emette impulsi di energia a microonde che rimbalzano sulle particelle di precipitazione all'interno di una tempesta. Analizzando i segnali riflessi, i meteorologi possono determinare la velocità e la direzione del vento. Quando una tempesta mostra una forte corrente ascendente rotante, nota come mesociclone, è un indicatore chiave che potrebbe svilupparsi un tornado. Algoritmi avanzati e modelli informatici analizzano questi dati in tempo reale, permettendo previsioni più precise e un'emissione di avvisi più rapida. I dati e l'analisi sono la spina dorsale di questi sistemi di allerta precoce. La NASA, insieme ad altre agenzie come la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, raccoglie grandi quantità di dati atmosferici utilizzando satelliti e stazioni meteorologiche. Questi dati includono temperatura, umidità, velocità del vento e pressione atmosferica, tutti fattori critici nella previsione dei tornado. I supercomputer analizzano queste informazioni eseguendo modelli complessi che simulano i modelli meteorologici e prevedono la probabilità di formazione di tornado. La collaborazione tra la NASA e altre agenzie meteorologiche garantisce che i dati siano completi e accurati. Ad esempio, i Satelliti Ambientali Operativi Geostazionari, GIB-GOES, forniscono un monitoraggio continuo delle condizioni atmosferiche sugli Stati Uniti. Questi satelliti catturano immagini e dati ad alta risoluzione ogni pochi minuti, offrendo una vista quasi in tempo reale dei sistemi meteorologici in sviluppo. Questo flusso continuo di dati è cruciale per rilevare i primi segni di condizioni meteorologiche estreme ed emettere avvisi tempestivi. Guardando al futuro, ci sono diverse innovazioni entusiasmanti all'orizzonte che potrebbero ulteriormente migliorare la previsione dei tornado e la preparazione ai disastri. Una di queste innovazioni è l'uso di droni equipaggiati, con sensori avanzati per raccogliere dati atmosferici in regioni difficili da monitorare con i metodi tradizionali. Questi droni possono volare dentro le tempeste, raccogliendo informazioni critiche su temperatura, umidità e modelli di vento che possono migliorare la precisione dei modelli meteorologici. Un'altra tecnologia promettente è lo sviluppo di radar di nuova generazione, come il radar a matrice a fase. A differenza del radar Doppler tradizionale, che scansiona l'atmosfera in un movimento di scansione, il radar a matrice a fase può scansionare più direzioni simultaneamente, fornendo osservazioni più rapide e dettagliate dello sviluppo delle tempeste. Questo potrebbe ridurre significativamente il tempo necessario per rilevare un tornado in formazione e emettere avvisi. La previsione dei tornado è un altro campo che l'intelligenza artificiale, IA, e l'apprendimento automatico sono pronti a trasformare. L'IA è in grado di riconoscere modelli e produrre previsioni meteorologiche sempre più precise, addestrando algoritmi su grandi set di dati di eventi meteorologici storici. I meteorologi possono produrre previsioni e avvisi più precisi e tempestivi, utilizzando queste tecnologie per aiutare nell'interpretazione dei dati. Ma come si tradurranno questi avanzamenti tecnologici nella sicurezza reale? Possono veramente fare la differenza nei momenti critici prima che un tornado colpisca? L'impatto economico di un tornado devastante in Wisconsin potrebbe essere straordinario, influenzando ogni aspetto della vita nello Stato. Comprendere i costi potenziali e le implicazioni a lungo termine è cruciale mentre funzionari e residenti si preparano per questo disastro imminente. Un tornado di tale magnitudo può causare danni enormi. Case, aziende e infrastrutture possono essere completamente distrutti dai tornado in pochi minuti. Possono essere persi milioni di dollari solo a causa dei danni alle proprietà. Le comunità residenziali sono più vulnerabili, in particolare quelle con abitazioni più vecchie e meno rinforzate. Anche le aziende subiscono interruzioni significative, inclusi danni alla proprietà fisica e perdita di attrezzature e inventari. Strade, reti di comunicazione e linee elettriche sono esempi di infrastrutture critiche che possono essere distrutte, causando interruzioni prolungate e ostacolando le operazioni di soccorso e recupero. Per mettere tutto in prospettiva, considera i danni causati da tornadi passati. Il tornado IF4 del 2008, che ha colpito Windsor, Wisconsin, ha causato danni stimati di 10 milioni di dollari. Data la gravità prevista del prossimo tornado, l'impatto economico potrebbe superare di gran lunga questa cifra, potenzialmente raggiungendo centinaia di milioni, o addirittura miliardi di dollari. Un componente essenziale del recupero da disastri è l'assicurazione. Le aziende e i proprietari di case con un'assicurazione completa per tornadi potrebbero essere idonei a ricevere assistenza finanziaria per la ricostruzione o la riparazione della proprietà. La realtà è che molte persone potrebbero non avere un'assicurazione sufficiente o potrebbero non essere adeguatamente coperte in caso di un incidente catastrofico. I residenti dovrebbero controllare la loro polizza assicurativa per assicurarsi di avere una copertura adeguata per proteggersi da perdite significative. L'assistenza finanziaria da parte dei governi federale e statali sarà anche cruciale. Dopo un grande disastro, la Federal Emergency Management Agency, FEMA, fornisce spesso sovvenzioni e prestiti per aiutare individui e imprese a riprendersi. Questi fondi possono coprire alloggi temporanei, riparazioni domestiche e altre spese legate al disastro. Inoltre, i programmi statali e le organizzazioni non-profit possono offrire supporto e risorse a chi è stato colpito. Assicurarsi che i residenti siano a conoscenza e possano accedere a queste risorse è fondamentale per una ripresa efficace. Ma la pressione finanziaria non finisce con il recupero immediato. Saranno necessari sforzi economici a lungo termine per ricostruire e restaurare completamente le comunità. Ricostruire case e aziende è solo l'inizio. Ripristinare infrastrutture come strade, ponti e reti elettriche richiede investimenti e coordinamento sostanziali. Le economie locali, in particolare nei piccoli paesi, possono subire impatti a lungo termine mentre le imprese chiudono e si perdono posti di lavoro. Il settore agricolo, una pietra angolare dell'economia del Wisconsin, potrebbe affrontare perdite devastanti. I tornadi possono distruggere colture e bestiame, portando a significativi colpi finanziari per gli agricoltori. Gli effetti a catena possono estendersi all'intera catena di approvvigionamento alimentare, influenzando i prezzi degli alimenti e la loro disponibilità. Dopo una catastrofe come questa, la guarigione è una maratona, non uno sprint. Le comunità devono concentrarsi sulla ricostruzione sociale ed economica, oltre che fisica. Questo implica aiutare le piccole imprese, stimolare le economie locali e assicurarsi che tutti nella comunità, specialmente i più vulnerabili, ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno. Pianificare in anticipo e fare investimenti a lungo termine sono essenziali per costruire comunità resilienti che possano sopravvivere alle tempeste future. Ma quali passi possono essere presi ora per mitigare questi impatti economici? Come possono i residenti e le imprese prepararsi finanziariamente a un tale disastro? I tornadi devastano gli habitat della fauna selvatica, le foreste e i sistemi idrici. La forza del vento, la riforestazione è una delle fasi iniziali del recupero a lungo termine. Ricostruire gli habitat e stabilizzare il suolo dipende dalla piantagione di nuovi alberi e dal recupero delle foreste. Oltre a offrire un luogo dove vivere agli animali, gli alberi sono essenziali per sequestrare il diossido di carbonio, rallentando il riscaldamento globale. Gli sforzi di riforestazione devono essere pianificati ed eseguiti con attenzione. Le specie autoctone dovrebbero essere prioritarie per garantire il ripristino dell'ecosistema locale. Inoltre, il coinvolgimento della comunità è essenziale per una riforestazione di successo. I volontari e le organizzazioni locali possono contribuire in modo significativo alla piantagione e alla cura di nuovi alberi, promuovendo un senso di responsabilità e connessione con il territorio. La restaurazione degli ecosistemi implica più della semplice riforestazione. Riparare fiumi, paludi e altri habitat significativi fa parte del processo. I territori umidi, ad esempio, fungono da filtri naturali per l'acqua e da barriere contro le inondazioni. Queste aree possono essere riabilitate per migliorare la qualità dell'acqua e servire come habitat essenziali per una vasta gamma di animali. Dopo un tornado, la restaurazione delle zone umide può aiutare a gestire il deflusso delle acque piovane e ridurre la possibilità di inondazioni successive. Uno degli approcci promettenti è l'implementazione di soluzioni di bioingegneria, come l'uso di piante e materiali naturali per stabilizzare il suolo e prevenire l'erosione. Questi metodi possono accelerare il recupero degli ecosistemi danneggiati e promuovere la sostenibilità a lungo termine. Ma quanto sono efficaci questi sforzi di recupero di fronte a una devastazione così vasta? Quali tecniche innovative e strategie si stanno sviluppando per migliorare la velocità e il successo della restaurazione ambientale? I residenti che vivono un tornado possono soffrire gravi danni emotivi. Un significativo dolore psicologico può derivare dalla suddenità, dalla violenza dell'evento e dalla perdita di case, beni e persino persone care. Stress acuto, ansia e disturbo post-traumatico da stress, PTSD, sono reazioni tipiche. I bambini, in particolare, possono manifestare bisogno di attenzioni eccessivo, incubi e fobia delle tempeste. Molto tempo dopo il passaggio del tornado, i residenti possono continuare a provare ansia, depressione e un senso accresciuto di vulnerabilità. Questi sentimenti possono essere esacerbati dalle sfide continue nel ricostruire vite e comunità, creando un senso persistente di incertezza e paura. I sistemi di assistenza alla salute mentale sono essenziali per aiutare le persone e le comunità a recuperare da una tempesta. È cruciale avere accesso a servizi specializzati di salute mentale come terapia e counseling. Per fornire questi servizi e garantire che i residenti ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno, le organizzazioni comunitarie, le scuole e i dipartimenti della salute spesso collaborano. Il sostegno della comunità è altrettanto importante. I vicini che sostengono i vicini hanno il potere di rafforzare i legami di cameratismo e resilienza. I membri della comunità possono esprimere i loro sentimenti, discutere le loro esperienze e ricevere supporto da altri che stanno attraversando situazioni simili in gruppi di sostegno e incontri comunitari. Iniziative come i team di intervento in crisi e le linee di emergenza possono offrire assistenza immediata a coloro che sono in difficoltà. Questi servizi forniscono una rete di salvataggio a chi fatica a far fronte, offrendo uno spazio sicuro per parlare e accedere alle risorse necessarie. Affrontare i problemi acuti di salute mentale è solo un aspetto della costruzione della resilienza comunitaria. Per garantire che le comunità siano meglio equipaggiate per resistere a future calamità e per rafforzare il tessuto sociale è necessaria una strategia a lungo termine. I programmi di sensibilizzazione e di educazione sono elementi essenziali di questo approccio. I residenti possono essere più preparati a chiedere aiuto e a supportare gli altri se vengono informati sugli effetti psicologici delle catastrofi e su come riconoscere i sintomi di stress e trauma. Gli esercizi di preparazione comunitaria e i workshop possono anche contribuire alla resilienza. Praticando i piani di risposta alle emergenze e imparando sui risorsi disponibili promuovono una cultura di preparazione e sostegno reciproco. Un'analogia notevole è il terremoto e tsunami del Giappone del 2011. Questa catastrofe ha causato vittime e distruzioni massicce paragonabili a quelle di un tornado forte. Questi incidenti servono a ricordare il valore dei sistemi di allerta precoce e la necessità di un'infrastruttura robusta in grado di resistere alle condizioni meteorologiche avverse. Mentre lo tsunami ha avuto effetto solo sulle aree costiere un tornado può avere un effetto indiscriminato su aree sia urbane che rurali. La distruzione diffusa causata dall'uragano e le inondazioni successive a New Orleans hanno rivelato importanti lacune nella risposta e nella preparazione ai disastri. Le lezioni apprese da Katrina come la necessità di piani di evacuazione efficaci e l'importanza della coordinazione federale statale e locale sono direttamente applicabili alla preparazione per il tornado nel Wisconsin. La cooperazione internazionale può migliorare la preparazione nel contesto del tornado previsto nel Wisconsin attraverso lo scambio di migliori pratiche e innovazioni tecnologiche. Le nazioni che hanno affrontato disastri simili in passato come gli Stati Uniti e alcune parti dell'Europa possono scambiare conoscenze e risorse importanti. Le agenzie internazionali di soccorso inclusa la Croce Rossa e le agenzie delle Nazioni Unite possono anche fornire supporto critico dopo una calamità. Offrendo forniture di emergenza assistenza sanitaria e supporto tecnico facilitano una ripresa più rapida ed efficiente per le comunità.